Allora, oggi voglio presentarvi un oggetto che ho riparato tempo fa, intanto resettiamo qua subito il counter, che si esteticamente è anche molto bella, trattasi di una piastra a cassette della Pioneer modello CTF7171 che è del 1974 o del 1976, modello quasi top di gamma della Pioneer, messo frontalmente abbastanza bene, purtroppo si ha qualche graffio qua sui meter e anche qua sull'acciaio, ha il mobile in legno che qui è stato un pochino bucherellato, cioè insomma ha i suoi segni, mi dimentico sempre di disattivare la vibrazione quando faccio i video e quindi ogni tanto si sfarfalla, qua c'è l'angolino sbeccato quindi purtroppo insomma ha dei segni del tempo, qua non so perché per esempio è stato bucato in legno, però comunque esteticamente, per essere un oggetto che a tutti questi anni possiamo dire che è messa decisamente bene. Particolarità sua del retro, come le piastre dell'epoca, è avere sia l'ingresso uscita in che gli ingressi uscite RCA, particolare suo è che ha la doppia uscita RCA e il doppio ingresso in RCA, quindi praticamente poi si possono attaccare due sorgenti, poi vabbè qua c'è il cavo scocciato perché è stato rovinato comunque insomma questi sono dettagli da poco. Qua andiamo ad accendere che naturalmente si accende senza nessun tipo di problema, tra l'altro tutte le luci sono funzionanti, compresa la luce della porta che è questa qua, come vedete questa è una piastra con caricamento a cassetta di quelle, io le chiamo mezze orizzontali perché in pratica tu si deve andare a inserire la cassetta così e poi a premere in giù per bloccare la cassetta all'interno. In più abbiamo tante funzionalità, qui c'è il tastino per spegnere o accendere la luce della cassetta, qui abbiamo purtroppo la levetta memory che è funzionante, dovrebbe essere il memory, non penso del counter, in realtà non so bene che cosa serve, purtroppo questa levetta è l'unica pecca, si è rotta, potrei trovare qualcosa di sostitutivo ma non ho ancora trovato nulla, il counter col suo tastino reset e poi qui c'è come pulsantire, sono classiche insomma. Abbiamo il tasto skip che è molto particolare, dopo vi faccio vedere come funziona, rack, play, pausa, stop, eject e chiusura della porta che la butta giù. Dolby, naturalmente soltanto Dolby Beam, equalizzazione per la riproduzione e per il rack del Bias, in questo caso abbiamo una cassetta al cromo, quindi diciamo che li abilito tutti e due, particolarissimo il rack limiter che poi vi farò vedere e sempre per come erano le piastre dell'epoca abbiamo led del pick, led del rack, regolazione dell'input molto 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 bello, oltre al fatto che ok c'è il bilanciamento quindi ho posto girare, adesso con una mano non ce la faccio, un potenziometro o l'altro perché sono un potenziometro doppi ma questa ghiera, questa ghiera che indica il posizionamento dell'indice è davvero molto bello e anche la regolazione dell'output, ingressi classici microfonici, uscita cuffie, insomma tutto classico. Andiamo a sentirla, quindi premiamo play. Naturalmente per copyright io purtroppo non posso farvi sentire molto, comunque vi faccio vedere che funziona perfettamente il rev, come vedete gira perfettamente la cassetta, anche in avanti gira perfettamente, vi voglio far vedere anche l'autostop, vediamo se riesco a farvelo vedere con questa cassetta e non ci mettiamo troppo, perché questa è una delle rare piastre, proprio perché era top di gamma dell'epoca, che aveva anche l'autostop, che non è una feature da poco, insomma intanto qui io disabilito anche i tasti perché dopo vi faccio vedere come funziona in registrazione con una cassetta un pochino rovinata. Naturalmente questa è stata tutta ripulita, sono state cambiate le cinghie perché c'erano tanti problemi, sono stati puliti soprattutto i selettori interni che permettono di fare la commutazione da rec e play, che sono quelli che danno più problemi. Siamo arrivati al fine della cassetta, voi vedete l'autostop funziona perfettamente. Estraiamo la cassetta, dopo vi faccio vedere anche, anzi ve la faccio vedere subito nel momento in cui inserisco questa cassetta, che nel momento in cui io chiudo la porta, decida di far estrarre la cassetta, la cassetta sembra che si blocchi, ma nel momento in cui io tiro sulla porta, la cassetta magicamente scende. È una cosa che sinceramente non ci ho mai, ma mai fatto caso. Però, però c'è. Ma andiamo in play questa, vi faccio sentire il tasto skip, cosa fa? Praticamente stacca il capstein per schippare in avanti e adesso, giusto per completare l'opera, vi faccio sentire come funziona il rack. Quindi andiamo in pausa, premiamo play e rack assieme, qui abbiamo un nostro smartphone, vi faccio sentire una traccia, quindi questa qui per esempio. Noi andiamo naturalmente a regolare il volume di input, in questo momento io ho staccato il rack limiter, quindi posso tranquillamente andare, come vedete, oltre il pick. Però cosa succede nel momento in cui attivo il rack limiter? Che mi rileva il pick e mi tiene il volume. Ok, io posso naturalmente registrare al volume più alto possibile. Quindi io qui posso naturalmente staccare la cassetta, lei comincia a registrare. Tra l'altro registra anche molto molto bene questa piastra, c'è da dire anche questo. Spero che questa traccia non me la segnalino per copyright. qui intanto avevo risultato il counter così poi vi faccio sentire la registrazione. Siamo a 4, stoppiamo, torniamo indietro e questa è la registrazione. Sì, non era questa. Aspettiamo di... Eccola qua. Come vedete il volume è perfettamente costante, i canali sono perfetti. Avevo attivato il rack limiter, quindi naturalmente il pick in pick non c'è andato. E insomma, che dire, è veramente, ma veramente una piastra molto, ma molto bella. Ok, come sentite, registra anche decisamente bene. Purtroppo non ho spazio per tenerla, un po' me ne dispiace anche perché è veramente una piastra molto, molto bella. Non ho spazio per tenerla, quindi penso che la venderò. Infatti ho fatto anche questo video per mostrarvi che comunque funziona tutta al 100%, che non ha assolutamente nessun problema, perché appunto l'ho revisionata io personalmente, e che insomma, per chi ha una serie di impianti vecchi, eccetera, è decisamente un buon acquisto. Ok, ci sarebbe un po' da ristrutturare il mobile, per cui insomma, non può valere tutti questi gran soldi come dovrebbe essere proprio perfettamente di estetica, perché ha quei piccoli segnetti, ma elettronicamente è, a dir poco, perfetta. Detto questo, spero che vi sia piaciuta e ci sentiamo al prossimo video.